A San Roberto nel Regino scoperta piantagione di Mariana, due arresti. Maltrattamenti e lesioni alla compagna, scatta l'allontanamento a Vibo Valencia. A Gizzeria Lido nel Catanzarese è la seconda edizione degli Stati Generali del Mediterraneo. Per la prima volta in Calabria il raduno nazionale dei cercatori di orchidee spontanee. Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. I carabinieri di Villa San Giovanni hanno arrestato due persone per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo la scoperta di una piantagione in località Piano Guardiola della frazione Melia del comune di San Roberto in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri di Villa San Giovanni hanno arrestato due persone per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti a seguito della scoperta di una piantagione tra la fitta vegetazione in località Piano Guardiola della frazione Melia del comune di San Roberto. Gli inquirenti ritengono che la piantagione, costituita da circa 80 piante di cannabis, alcune alte anche due metri, pronte per essere raccolte, siccate e tagliate, tra i mesi di luglio e agosto del 2022 fosse stata coltivata proprio dai due arrestati. L'operazione è stata portata avanti anche grazie all'ausilio dei carabinieri dello squadrone li portato cacciatori Calabria. Maltrattamenti in famiglia, la squadra mobile di Vibo Valencia fa rispettare un'ordinanza applicativa dell'obbligo di dimora presso un comune diverso da quello di residenza e di vieto di avvicinamento alla compagna convivente. Ancora un caso di violenza domestica non denunciato dalla vittima, forse per paura di ritorsioni e comunque venuto a conoscenza della polizia che di conseguenza ha agito d'ufficio. La squadra mobile di Vibo Valencia ha quindi dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa dell'obbligo di dimora presso un comune diverso da quello di residenza e contestuale di vieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo sospettato di maltrattamenti in famiglia e lesioni commesse mediante reiterate condotte di violenza fisica e psicologica nei confronti della compagna convivente iniziate già nel 2021 e che sono proseguite fino ad oggi. Violenze confermate anche da molteplici referti del pronto soccorso. Nonostante ciò la donna non ha inteso sporgere denuncia. Da qui l'intervento d'ufficio. La diplomazia statunitense ha chiesto spiegazioni sull'arrivo dei medici cubani in Calabria. Lo ha fatto attraverso il Ministero della Salute che nel corso della verifica del tavolo a duce sulla programmazione e bilanci delle aziende sanitarie calabresi ha girato la richiesta alla governance calabrese per capire le modalità di assunzione a tempo determinato dei professionisti. Chiarimenti in particolare erano indirizzati agli stipendi e soprattutto gli americani erano interessati alla stipula del contratto. La preoccupazione degli americani era essenzialmente dovuta all'ipotesi che potesse essere stato superato l'embargo con Cuba. E' quanto spiega Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria. Noi paghiamo i medici cubani per un arruolamento di due anni e non la società. La loro retribuzione è di 4.700 euro l'ordi mensili. Gli americani infatti pensavano che dalla Calabria potesse partire un finanziamento indiretto a Cuba attraverso la stipula dei contratti con i medici cubani. Nel frattempo comunque non solo il primo contingente di medici è a lavoro e pienamente in servizio negli ospedali della provincia di Reggio Calabria ma un nuovo gruppo di professionisti è atteso in Calabria e molti camici bianchi cubani potrebbero prendere servizio anche negli ospedali della provincia di Catanzaro a partire da quello di Lamezia Terme. Organizzato da Lega Ambiente Calabria con il supporto di CONAI e in collaborazione con l'Università Magna Grecia di Catanzaro un incontro dal titolo La transizione ecologica in materia di rifiuti. I cantieri calabresi. Vediamo. Questo è il primo degli incontri che Lega Ambiente Calabria sta organizzando con il prezioso supporto del CONAI all'interno delle università proprio per ragionare in materia di rifiuti sulla corretta gestione del ciclo e quindi riuscire a instillare ed aumentare la sensibilità nei confronti della raccolta differenziata e dell'importanza della raccolta differenziata e allo stesso tempo insieme a tutti gli stakeholder ragionare su quelle che sono le iniziative e le proposte per realizzare su tutto il territorio calabrese gli impianti della filiera di riciclo in un'ottica di filiera. Iniziamo a dire che la Calabria complessivamente migliora le proprie performance di raccolta differenziata. Noi naturalmente ci basiamo su quelli che sono gli ultimi dati in nostro possesso che sono quelli del 2021 su cui è stato redatto il dossier comuni ricicloni che abbiamo recentemente presentato anche in occasione dell'ecoforum. La raccolta differenziata migliora progressivamente ma ancora in maniera troppo lenta. Attualmente siamo al 53,1% a livello regionale contro il 64% a livello nazionale. Per quanto riguarda invece il dato delle singole province Catanzaro è la prima città tra i capoluoghi con circa il 70% di raccolta differenziata è quindi un comune riciclone ma non è un comune rifiuti free è leggerissima pressione quindi da questo punto di vista bisognerà fare una riflessione. Segue Vibbo con il 66% e poi Cosenza e poi le ultime che sono sostanzialmente le maglie nere da questo punto di vista che sono Reggio Calabria e ultima in assoluto in fondo alla classifica Crotone con il 17,6% che è in leggera salita rispetto all'anno precedente sintomo che qualcosa comunque si sta muovendo anche in questa città. Uno dei pilastri della transizione ecologica è sicuramente impermeato sull'economia circolare che è un'idea di sviluppo dei rifiuti della gestione dei rifiuti, dei materiali ma in generale insomma della sostenibilità a 360 gradi che cerca di ridurre l'impatto delle nostre attività sull'ambiente e quindi è fondamentale avere una visione di insieme ma questa visione generale degli obiettivi di raggiungere ovviamente deve basarsi su delle solide fondamenta e la gestione dei rifiuti, i rifiuti urbani quelli che produciamo all'interno delle nostre case ovviamente è un altro pilastro su cui puntare sicuramente ci sono delle inefficienze che vanno migliorate per permetterci poi di avere una base di partenza ottimale per le nuove filiere, per la ricerca, per i nuovi materiali e quindi dare vite e gambe a questa economia circolare utile lo sviluppo sostenibile delle nostre attività Si sta svolgendo oggi Serialido nel Catanzarese la seconda edizione degli Stati Generali del Mediterraneo organizzati dall'ufficio del commissario straordinario di governo della ZES Calabria, Giosi Robano in collaborazione con la Regione Calabria Un'Industria Calabria e la Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico La Calabria al centro dell'incontro La Calabria ha una grande opportunità può essere davvero l'Hub dell'Europa sul Mediterraneo il Mediterraneo sta diventando il luogo del mondo che concentra più risorse dal punto di vista logistico noi abbiamo la prima infrastruttura d'Italia che è il porto di Gioia d'Auro e abbiamo la ZES che si sta segnalando per grande operatività e grande efficienza, stiamo rilasciando permessi e autorizzazioni a insediare nuove aziende in 5 giorni ieri ne è stata rilasciata una in 24 ore quindi attraverso la ZES candidiamo la Calabria a diventare il luogo dove si possono ricevere investimenti si possono attrarre investimenti un'economia si sviluppa se riesce ad attrarre investimenti dall'esterno non basta dirlo, bisogna essere operativi farle le cose sono molto soddisfatto del lavoro che il commissario ZES il commissario del Corap stanno svolgendo e anche della loro ambizione di collegare questo progetto di attrazione degli investimenti in Calabria al progetto di attrazione degli investimenti nel Mediterraneo quindi l'occasione sarà propizia per parlare con decisori di investimenti pubblici e privati non solo italiani ma anche dei paesi che si affacciano sull'altra sponda del Mediterraneo quindi Egitto, Tunisia io ho parlato qualche settimana fa col presidente della regione del Rabatti in Marocco ospiteremo a giugno la conferenza dei presidenti delle regioni del Mediterraneo qui in Calabria quindi su questo tema stiamo lavorando molto l'ambizione è quella di fare in modo che la Calabria possa vivere quello che hanno vissuto le regioni del nord negli decenni passati quando siccome erano prossimi al motore di sviluppo dell'economia europea che era il manifatturiero tedesco se ne sono avvantaggiati noi oggi siamo prossimi al nuovo motore di sviluppo dell'economia europea che è appunto il Mediterraneo dobbiamo avvantaggiarcelo il Ponte sullo Stretto è un'infrastruttura strategica nel momento in cui parliamo della centralità del Mediterraneo è normale che ci debba essere l'interesse dello Stato a infrastrutturare le regioni del Mediterraneo ho detto infrastrutturare attraverso appunto il Ponte sullo Stretto ma anche attraverso le infrastrutture complementari ha senso fare il Ponte se c'è un'autostrada che funzioni se c'è l'alta velocità ferroviaria se c'è una direttrice di aria ridondante rispetto all'autostrada che è la 106 Ionica devo dire che però grazie al Ponte abbiamo ottenuto in Calabria 3 miliardi di euro per la 106 che si sommano alle altre risorse che eravamo riusciti ad ottenere oggi è andato in gazzetta ufficiale il bando per i lavori sulla Crotone Cutro era un progetto bandiera per noi finanziato con l'FSC quindi non con questi 3 miliardi che sono aggiuntivi ho chiesto al Ministro Salvini di avere altre risorse per la 106 di avere risorse per i tratti dell'autostrada A2 che devono essere rifatti ecco il Ponte serve anche ad attrarre ulteriori investimenti infrastrutturali quindi che ci sia questo interesse del Governo nazionale sul Ponte è utile perché se c'è questo interesse c'è l'interesse anche verso le infrastrutture complementari al Ponte spero proprio di sì intanto sono orgoglioso dell'esempio che ha dato la Calabria al Paese perché si è dimostrata una regione solidale una regione accogliente una regione che non ha dimenticato di aver patito nei decenni passati il dramma della emigrazione oggi sarò a Isola Capolizzuto domani sarò a Cutro sto ragionando anche in ordine alla possibilità di far diventare una crisi quella del fenomeno migratorio una opportunità per la nostra regione ma ancora è troppo presto per parlare si è tenuta a Palazzo Luigi Razza una conferenza stampa dall'amministrazione comunale di Vibo Valencia per fare il punto su cosa si sta facendo con i progetti e cantieri avviati in città e nelle frazioni e fare il punto anche sulle iniziative in programma prima priorità alle cose essenziali poi alla sicurezza e quindi allo sviluppo della città sono queste le indicazioni che il sindaco di Vibo Valencia Maria Limardo aveva dato in merito a quello che voleva che fosse fatto per la città che si apprestava a governare e ora quattro anni dall'inizio mandato e un anno alla sua fine insieme al suo assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo ha deciso di far sapere cosa è stato fatto che cosa si sta facendo con i progetti e i cantieri avviati in città e nelle frazioni ed infine fare il punto sulle iniziative in programma abbiamo opere pubbliche per circa 100 milioni di euro una cifra importantissima che ci ha indotto già a stipulare un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza intanto quindi la prima cosa è la messa in sicurezza dal punto di vista della legalità che costituisce il tessuto connettivo di ogni azione come Sacchi si avvicina all'amministrazione Limardo ma poi abbiamo una visione chiara della città sappiamo bene quale deve essere lo sviluppo e sappiamo bene in quale dimensione vogliamo portare la città di Vibo Valencia ogni opera che è stata programmata e i lavori che sono attualmente in corso sono lavori che si inquadrano in un contesto generale abbiamo pensato innanzitutto alla sicurezza innanzitutto alla sicurezza dei nostri ragazzi quindi alla sicurezza delle scuole poi abbiamo pensato alla sicurezza dei cittadini quindi la sicurezza del territorio tramite le opere di messa in sicurezza idrogeologica dei versanti poi abbiamo pensato ad una rigenerazione urbana però non potevamo non iniziare da quelle aree che erano maggiormente bisognose di questa rigenerazione quindi i quartieri popolari i quartieri delle case popolari e quelli più più fragili più bisognosi di attenzione dopodiché si passerà ad una rigenerazione collettiva urbana che vedrà una vera e propria trasformazione urbanistica della città siamo assolutamente convinti infatti che la trasformazione sociale e la trasformazione urbanistica vanno in coppia e che non ci può essere crescita economica culturale e sociale se non c'è alla base il senso pieno dell'identità e dell'appartenenza ai luoghi alla propria città cosa che si ottiene soltanto avendo ben chiara la visione ma soprattutto andando in direzione di un decoro di un cambiamento strutturale e di una ripresa della bellezza dei luoghi dei quali i vibonesi hanno certamente bisogno nessuna data però è stata data di inizio o conclusione ai lavori in itire solo la certezza che il nuovo teatro sarà finito entro l'estate che anche la scala mobile quanto prima entrerà in funzione e anche i lavori del sottopasso di Vimo Marina stanno proseguendo secondo programma mi sento di poterlo dire ormai siamo alle battute finali proprio per l'ultima azione di questa importante opera che la città attende da diverso tempo mancano veramente pochi elementi quali l'installazione dell'ascensore e l'abitumazione dell'aria esterna e poi seguirà ovviamente una fase di collaudo quindi la preparazione di alcuni documenti che renderanno fruibile al 100% il teatro della nostra cittadinanza però mi sento di essere assai fiducioso arrivato a questo punto e nel dire che nella prossima stagione teatrale i vibonessi potranno usufruire del teatro sulla scala mobile l'infrastruttura è ultimata e siamo alla fase di collaudo abbiamo nominato dei tecnici iscritti a degli albi specifici per redigere i documenti che l'ansfifa ci ha richiesto e nella prossima settimana verranno effettuati dei sopralluoghi alcuni abbiamo già effettuati questa settimana propedeutici proprio alla redazione di questi documenti sotto passo siamo riusciti non senza grandi difficoltà a reperire i fondi necessari all'ultima azione dell'opera in sicurezza e ad appaltare a giudicare i lavori che vedranno l'inizio da qui a qualche giorno il tempo necessario di effettuare le ultime verifiche documentali della ditta giudicataria dei lavori stessi cambiamo l'argomento il dipartimento di matematica e informatica dell'università della calabria in collaborazione con il consorzio jobel ha avviato un programma di seminari presso il museo e giardini di pitagora a crotone per contribuire alla diffusione della cultura matematica e informatica il dipartimento di matematica dell'unical in collaborazione con il consorzio jobel ha avviato un programma di tre seminari a cura dei propri ricercatori per proporre un percorso importante per la comunità di crotone città di pitagora contribuendo alla diffusione della cultura della matematica con l'individuazione di soluzioni innovative e creative a problemi complessi il primo dei tre incontri si è tenuto il 23 marzo sul tema infinito uguaglianza e possibilità tre matematici e tre storie da raccontare a cura del direttore del dipartimento di matematica e informatica Gianluigi Greco numerose le classi dei licei degli istituti crotonese a corsi accompagnati dai propri insegnanti per una lezione di matematica speciale e si consolida questo rapporto perché il museo di Pitagora è il centro della matematica e quindi non potevamo che iniziare questo percorso all'interno del nuovo partenariato col comune di Crotone con appunto quello che è il nostro massimo rappresentante ricercatore che abbiamo in Calabria e non solo senta io partirei così la matematica oggi affascina gli studenti è stata sempre una materia ostica lei come la presenterà oggi? guardi si è vero la matematica è una materia ostica c'è bisogno di presentarla con il linguaggio giusto con un linguaggio che possano capire i giovani anche suggerendo un po' di legami di analogie con cose belle che piacciono a tutti come l'arte in particolar modo l'idea di questi seminari è un po' quella di presentare la matematica in relazione alle forme d'arte in relazione a ciò che più c'è di bello nel nostro mondo si l'idea di questo di questo ciclo di seminari è quello di presentare dei termini matematici e dare loro un senso parlare di infinito cosa vuol dire nella nostra società cosa ha voluto dire per i matematici parlare di uguaglianza è un termine molto importante una riflessione che partirà dalla matematica ma che abbraccerà la nostra società e poi parlare di possibilità cosa sono le possibilità oggi perché esplorare le possibilità si guardi io sono la mia passione è quella dell'intelligenza artificiale una branca della logica in realtà che affonda le sue radici nella matematica noi studiamo tutto ciò che è intelligenza artificiale e siamo affascinati da ciò che le macchine possono fare ma abbiamo anche tanti dubbi noi stessi abbiamo tanti quesiti tante domande a cui cerchiamo di darci risposte ecco la consapevolezza e creare consapevolezza nei giovani a mio avviso è il modo migliore per dare queste risposte e poi a proposito di giovani ci troviamo nella città di Pitagora a tal proposito come presenterà il numero pitagorico oggi? guardi per me la città di Pitagora è molto particolare io sono direttore del dipartimento di matematica e informatica e posso vantare di essere il direttore del dipartimento di matematica nella terra di Pitagora e parlare di matematica in questa terra parlare di Pitagora in questa terra è una grande emozione quindi ne parlerò con emozione il notaio vibonese Mariolina Palermo è stata ricordata nel primo appuntamento vibonese del festival la Calabria delle donne l'importante kermesse calabrese che celebra il genio femminile delle donne in Calabria quest'anno ha come obiettivo di ricordare e celebrare le donne che si sono dedicate alle istituzioni e alla politica una serata di forti emozioni a tratti momenti di sincera commozione per un appuntamento molto sentito finalmente è arrivata l'occasione anche per Vivo Valencia di ospitare le tappe della seconda edizione del festival Calabria delle donne l'importante kermesse calabrese che celebra il genio femminile delle donne in Calabria e che quest'anno ha come obiettivo quello di ricordare e celebrare le donne che si sono dedicate alle istituzioni e alla politica certo un tema importante che accende i riflettori sulla storia di quelle donne scomparse che hanno vissuto in questa regione e che hanno dedicato la loro vita ad una serie di impegni sociali professionali politici istituzionali questo primo appuntamento vibonese del festival curato e diretto dall'archeologo vibonese Maria Angela Preta e organizzato dal distretto notarile è stato dedicato al ricordo dell'impegno professionale del compianto notaio Maria Palermo da tutti conosciute come Mariolina tra i 33 appuntamenti che celebrano 45 figure tra politica e istituzione oggi inizia diciamo il festival nella città anche di Vibo Valencia dove abbiamo parlato appunto del notaio Mariolina Palermo che seppur nella sua breve carriera di notaio ha lasciato indubbiamente un segno indelebile nella comunità la testimonianza si è avuta questa sera con l'incontro e tante persone che la ricordano sì sono stati presenti il suo notaio in Roma dove lei ha fatto la pratica e si è diciamo approcciata proprio alla professione del notaio il presidente del consiglio notarile dei distretti di Vibo Catanzaro La Mezza e Crotone il notaio Guglielmo e poi il segretario del distretto Daila Miceli ma una testimonianza incredibile dei tanti notai presenti dei tanti amici e dei tanti cittadini che l'hanno ricordata e l'hanno voluta ricordare tra le sue qualità proprio quella di unire assolutamente sì diciamo quella di creare sinergia sul territorio era sicuramente una delle sue peculiarità ok ora ci spostiamo nel Regino San Giorgio Morgeto è uno dei 37 comuni che fanno parte del Parco Nazionale della Spromonte definito come uno dei borghi più belli della Calabria tante le iniziative per la prossima estate Graziano Tomarchio ha sentito il Sindaco Sindaco imminente la stagione estiva ecco si parla del 30% in più quest'anno di turismo in Calabria e qui non è un paese di mare ma è di montagna ecco San Giorgio Morgeto può essere una città turistica? San Giorgio Morgeto deve essere una città turistica la vocazione vera di San Giorgio Morgeto è il turismo e l'accoglienza guardate io ci tengo a dire questo noi a breve a giorni partiremo con delle iniziative importanti ma ne voglio citare due fra le altre il primo è la pavimentazione del parcheggio che tu sai ancora è in condizioni non ottimali adesso lo pavimenteremo verrà tutto nuovo ma soprattutto noi stipuleremo proprio a giorni il contratto per la gestione dell'ostello un piccolo albergo bellissimo con 32 posti letto quindi rinnoviamo San Giorgio la rendiamo più vivibile più presentabile ma aumentiamo a dismisura la ricettività del nostro paese oltre alla bellezza che è uno dei borghi più belli possiamo dire della Calabria anche andare a degustare dei prodotti del territorio ecco sì assolutamente guardate intanto noi a primavera avremo finalmente la visita per l'accesso ai borghi più belli d'Italia una cosa alla quale tengo la prima delibera della mia giunta quindi speriamo finalmente di riuscire in questo traguardo e in più l'offerta gastronomica di San Giorgio è davvero variegata abbiamo tutti i locali che il fine settimana sono pieni con un'offerta diversificata a San Giorgio si viene si vive bene e si mangia ancora meglio e siamo giunti all'ultima notizia per la prima volta in Calabria il raduno nazionale dei cercatori di orchidee spontanee da giovedì 27 a domenica 30 aprile 2023 a Roccella Ionica Badolato Chiaravalle il raduno nazionale dei cercatori di orchidee spontanee da giovedì 27 a domenica 30 aprile 2023 la prima volta sì in Calabria per l'interessamento dell'università delle generazioni dopo oltre 4 anni di lavoro preparatorio finalmente avrà luogo per la prima volta in assoluto in Calabria il raduno nazionale del Giros il gruppo italiano ricerche orchidee spontanee fondato in Veneto nel 94 e preseduto dall'attivissimo Mauro Biaggioli un evento che non ha uguali dal punto di visto scientifico ma anche turistico destinato a perpetuarsi in futuro in ogni mese dell'anno dal momento che la Calabria è già riconosciuta a livelli mondiali come una delle regioni europee più ricche di questa preziosità della flora spontanea specialmente in Sila nelle serre in Aspromonte con esemplari rarissimi a volte davvero unici nel loro genere un territorio molto frequentati da studiosi esteri specialmente tedeschi il programma prevede momenti organizzativi del Giros all'Hotel Kennedy di Roccella Ionica e due escursioni davvero assai interessati la prima avverrà per tutta la giornata di venerdì 18 alle ricerche di orchidee spontanee nel territorio del comune di Placanica e a Montestella con pranzo a sacco la seconda invece nei territori di due comuni nel Catanzarese Badolato e Chiaravalle Centrale per tutta la giornata di domenica 30 aprile con pranzo a sacco il programma delle due escursioni sarà illustrato nella serata di giovedì 27 proprio all'Hotel Kennedy di Roccella Ionica dove sarà possibile acquisire materiale informativo ma sabato 29 sempre a Roccella Ionica nella sala convegni del Convento dei Minimi avrà luogo una conferenza scientifico-culturale sulle orchidee spontanee in generale su quelle della Calabria in particolare tutti possono aderire alle conferenze e alle escursioni pure colori quali non sono soci Giros a patto che siano assicurati contro eventuali infortuni o incidenti termina qui la nostra informazione e spazio ora le notizie dall'Italia e dal mondo grazie per aver seguito il nostro TG si dice estremamente soddisfatta Giorgia Meloni al termine della due giorni a Bruxelles per il Consiglio Europeo sui migranti ha detto la Premier c'è stato un cambio di passo dell'esecutivo europeo la migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell'Unione Europea c'è un lavoro che va in continuità che dimostra che non si trattava di uno spot o semplicemente diciamo di un'iniziativa singola chiaramente stiamo lavorando sulla concretezza di quegli strumenti con risultati che a me sembrano oggettivamente molto buoni e che dimostrano una buona fede nella volontà di affrontare questa materia l'isgelo anche tra Italia e Francia dopo il colloquio avuto dalla Premier ieri sera con Macron con la Meloni abbiamo avuto una discussione molto buona che ci ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire le questioni sulle quali possiamo agire insieme ha sottolineato il presidente francese è stato un incontro lungo e ampio sullo scenario e la situazione complessa sul fronte geopolitico c'è voglia di collaborare ha detto Giorgia Meloni in Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni secondo i dati del Ministero dell'Interno solo ieri più di un milione di persone sono scese in piazza contro la legge che ha innalzato di due anni l'età pensionabile che passa da 62 a 64 anni oltre 450 gli arresti e 441 agenti feriti l'Eliseo all'indomani di una giornata di manifestazioni degenerate in scontro in tutto il paese ha annunciato che visto il clima di tensione la visita di Re Carlo III in programma per la prossima settimana è stata rinviata i sindacati avevano infatti organizzato ulteriori proteste proprio per martedì giorno in cui era fissata la visita del re d'Inghilterra nel 79esimo anniversario dell'Ecidio delle Fosse Ardiatine il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona dall'oro portata a spalla da due corazzini sulla lapide posta all'ingresso del Sacrario al termine della cerimonia l'omaggio del Capo dello Stato alle 335 vittime della strage compiuta dai nazisti per rappresaglia dopo l'attacco dei partigiani in via Rasella nell'assoluto silenzio con molta commozione dei familiari presenti sono stati scanditi tutti e 335 i nomi delle vittime un silenzio esploso al termine della lettura del lungo elenco in un applauso Alfredo Cospito l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi contro il 41 bis deve restare stabilmente nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo sempre in stato di detenzione carceraria in regime di 41 bis è il parere della procura generale di Milano che ha rigettato la richiesta di differimento pena con detenzione domiciliare presentata dal legale i giudici del tribunale di sorveglianza avranno ora cinque giorni di tempo per decidere sull'istanza dopo l'udienza che si è tenuta all'ospedale San Paolo dove Cospito è ricoverato l'anarchico fa sapere il suo avvocato Flavio Rossi Albertini davanti ai giudici ha detto che sarebbe disposto a sospendere lo sciopero della fame nel caso in cui il tribunale di sorveglianza liberasse altri detenuti attualmente sottoposti al 41 bis persone anziane o malate che vogliono soltanto tornare a casa dopo 30 anni di carcere duro vasta operazione dei carabinieri di Roma a centro con la collaborazione dei comandi provinciali di Roma e Prato contro un'organizzazione internazionale dedita allo spaccio di metanfetamine e allo sfruttamento della prostituzione cinese disposte dal GIP del tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia misure cautelari nei confronti di 47 cittadini tra cinesi filippini e italiani accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione domenica torna l'ora legale alle due di notte bisognerà spostare le lancette avanti di 60 minuti si dormirà un'ora in meno ma avremo giornate più lunghe più luce naturale da sfruttare consentendo anche un maggior risparmio energetico la conferma arriva anche dalle stime di Terna che calcola per i sette mesi in cui sarà in vigore l'ora legale un risparmio per l'Italia di circa 220 milioni di euro